Sì. Salve a tutti, oggi vedremo un gioco della Mattel, un gioco per bambini piccoli, in cui si insegnavano, in cui vengono insegnati i nomi dei vari animali. Vuoi dire qualcosa? Dici qualcosa? Boh. Boh, ciao. È in pratica, niente, è un gioco per bambini piccoli, tu sei grandicello, però mi servi come collaboratore. Allora, andiamo a vedere, mettiamo il primo animaletto. Allora, metti la freccia sull'animaletto che vuoi far parlare, diciamo. Qui c'è un contadino, adesso la metto su, vediamo un po', sul maialino, vai! Forte! Vai! Su dove lo metto adesso? Vai, facciamo così, in ordine. Questo è il gallo, vai! Ma non l'hai messo sul coiote? Vai! Dimmi, su quale animale metti? Mucca. Come? Mucca. Vai! Quale, questo? Zona. Come? Zona. Inchiorata! Ora, su! Vai! Vediamo un po' chi manca ancora. Gallo? Poi, chi abbiamo più qua? Vabbè, più o meno, non lo fa uguale. Comunque è un disco che... Questo è il cane! Il cane va bene, va bene. Poi? Uccellino, gatto. Vai! Ascolta il gatto! Poi chi abbiamo più? Uccello. Uccello, vai! Uccello! Vai! Ecco, l'anatra! Anatra! Poi? Uccellino, vai! Senti, uccellino! Chi manca più? Cavallo? La mucca l'hai fatta, il cavallo! E chi vuoi fare ancora? Vuoi fare il cavallo? Vai, il cavallo, vai! Questo è il cavallo! Bravizio! Non ho solo la peccola. No, la peccola è fatta già il... il tacchino. Tacchino. Dove è il tacchino? Su, prendi. Vai con il tacchino, vai! No, proprio sì. Non c'è più nessuno. Giralo un po', facciamo vedere dietro come è fatto. Questo è in vendita, se vi serve, contattatemi, va bene? Contattatemi tramite e-mail. Questa è della Mattel, è un bel gioco, insomma, è un giocattolo di chi hanno. Vediamo un po', se non vate la vedendo tanto, questo vediamo un po'. 1989, Mattel. Made in Italy, logicamente. Va bene? Scegli l'ultimo animaletto da far cantare, da far parlare. E salutiamo i nostri amici. A cazzo. A cazzo, vai! Usce lì. Sostì. A cazzo, vai, 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 vai. Vediamo adesso che esce. E va bene, è uscita la rana. Ti saluto, grazie. E alla prossima. Come si da rana. Grazie a tutti.